Ragazzi, il ragazzo è arrivato per ultimo quindi adesso mi devi fare una bella rana Come ci diffondo? Era un dritto, dai Sdraiati per cortesia Di secondi conto io, ma una bella rana come la facessi in mare Uno, due, tre, fai una bella rana con le gambe 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Uno Dieci dai Va bene dai, ok